Ciao a tutti! Io sono me e lui è Ioni e insieme siamo i... Mei coglioni! Ye 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 ye! To 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 to! Ciao, un saluto a tutte le nostre piccole post-pay! Bambini, si chiamano bambini! Già, vero, bambini! Bambini, allora, vi è piaciuta la challenge di ieri dove mi buttavo dal balcone vestito da... Batman! Eh, mi è piaciuta! A meno! Dai, me, leggiamo i commenti che sono andati in diretta! Sì, allora, che fai? Ti droghi, Batman non vola con gli occhi! Vabbè, abbiamo capito che vi è piaciuta la challenge! E allora ne facciamo un'altra dove camminerò per 40 giorni con questa fasciatura! Eh, poi dipende anche da come guarisce! Sì, però ricordiamo che non è stata un'idea tua! Ringrazia chi te l'ha suggerita! Ah, sì, sì, salutiamo gli amici del reparto ortopedia dell'ospedale San Camillo di Roma! Ciao amici! Che mi hanno pure insegnato due paroline nuove! Eh, frattura scomposta e complicazione! Ma andiamo avanti! Eh, da mille, mille email sono arrivate ma non possiamo leggerle tutte, no? No, no, no! Eh, ma risponderemo ad una per una! Da dove iniziamo? Eh, cominciamo da... Dall'unica... Mille! Dall'unica con i cuoricini! Mille! Mille! Dall'unica che c'è arrivata con i cuoricini! Ecco, ci scrive una mamma! Eh, mamma! Ci scrive una mamma! Che lega pure la fotografia sua! Eh, complimenti alla mamma! Eh, ciao, sono la mamma di Francesca! Chi sa l'ho? Che è la mamma di una fan! Stai calma! Ciao la mamma di Francesca! Ciao Ioni! Ti seguo sempre e mi piaci tanto! Ah, vabbè, io si provo a c***o! Eh, stai calma! Volevo sapere se oltre alle feste per bambini fate anche le feste per noi mamme! Ebbè, uno s'organizza! Senti, p***a! Guarda, ma cosa faccio? Io andando là sotto l'ambito, capò! Senta calma! La mamma di un po' che c***o fa! Capito, capito, capito! Capito, capito! Capito, capito! Capito! Me, coglioni! E salutiamo la mamma di Francesca! Che se vuole mettere il suo numero qui tra le commenti poi uno s'organizza, insomma! Accogliamo la nostra me! Ye, 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 ye! Eh, to, 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 to! Eh! Dai, me, tiriamoci su! Cosa possiamo far vedere oggi le nostre piccole Mastercard? Bambini! Bambini, bambini! Idea! Andiamo al parco a baciare gli sconosciuti! Ma no, Ioni, aspetta! Prima di fare questo, qui ho ancora le vostre denuncione sport e carabineroni! Eh? Non si fa! No, no, non si fa, non si fa! Allora facciamo una cosa, cambiamo challenge! Facciamo quella della settimana scorsa in cui abbiamo mangiato per 24 ore tutto cibo di colore azzurro! E vi è piaciuta tantissimo! Infatti ci avete scritto in tanti dall'ospedale! Sì, alcuni con la polica renale altri con l'ulcere allo stomaco alcuni addirittura con la perforazione ciona dell'intestino! Ma aspetta, Ioni! Prima di fare questo giocone se muore qualcuno perdiamo dei fan, no? Ah, no, no, non possiamo perdere i nostri cuccioli di Iban! Bambini, bambini! Eh, beh, Iban e bambini hanno le stesse lettere, mi confondo! Allora leggiamo una lettera che mi è arrivata una lettera di carta, pensate dove c'era pure un franco bollo questa cosa mi commuove un po' Eh sì, perché in un mondo digital ai me coglioni arrivano le letterine Sì, 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 lei la sta leggendo Cari me coglioni sono Carlotta nickname Cucciolina2001 Ciao Cucciolina2001 Vi ricordate il vostro video in cui vi siete chiusi per 24 ore dentro il negozio? Cioè noi abbiamo fatto questa stanzione Come no Cucciolina2001 è stato uno dei più visti Assolutamente L'ho fatto anche io Brava! E mi hanno accompagnato i miei genitori ma mi ha scoperto la polizia e ora i miei genitori sono in carcere io riscrivo dalla casa di mia nonna che non ha il buon effetto Grazie, grazie Cucciolina2001 grazie per il tuo affetto Grazie Mamma mia Continua a seguirci e ti salutiamo con il nostro saluto Ye 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 Tot 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 Continua a scriverci anche perché dai 16 mesi vedrai più noi nei video che i tuoi dal vivo Allora io me coglioni la super challenge di oggi Sì Mangeremo per 24 ore solo marshmallow Che bello dai dai allora chi lo mangia tu inizia tu dai Ioni pronti a partire da questo momento via vado ancora buoni buonissimi bello inducchellato eh? bello inducchellato ma non c'è come faccio si allora amici se volete vederci ci vediamo il 24 25 26 a piazza verdi dal dentista si allora mi raccomando condividete il video lasciate un like seguiteci eh e vi salutiamo con il nostro saluto ciao mamma mia oh lina faccio più sta c***a se non ti consente oh so c'è un euro di visualizzazione eh ma ciao 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 ciao